La stragrande maggioranza delle imprese agricole opera e produce nelle regole e anzi ci dà una mano a dimostrare ogni giorno che ci sono buoni esempi di legalità e di conduzione regolare, legale, delle esperienze agricole e agroalimentari in questo Paese. Stiamo parlando di una grandissima eccellenza del nostro modello. Quindi dicevo sicuramente rafforzamento dei controlli, sicuramente investimento nella rete del lavoro agricolo di qualità come vera leva per cambiare passo in questa strategia. Un piano d'azione organico che possa immaginare anche qualche innovazione sul versante anche delle regole. E qui bisogna studiare alcuni elementi che sono emersi anche dal tavolo di questa mattina. Un investimento vero, unitario, delle organizzazioni del mondo del lavoro, delle organizzazioni dell'impresa agricola, dell'esperienza della grande distribuzione e delle istituzioni.